La nostra società ha tanto bisogno di buoni esempi, di altruismo e di tanto amore. Lo hanno scritto in una lettera rivolta ai giovani detenuti della terza sezione del carcere di Castelvetrano. Sono tantissimi gli studenti che in un periodo di vacanze come l'estate dedicano il loro tempo agli altri. Spesso sono invisibili, di loro non se ne parla, ma la loro attività nel donarsi e donare il proprio tempo è una grazia di Dio. A dirlo il Vescovo di Mazzara, Monsignor Domenico Mogavero, al quale la lettera è stata recapitata. Anche per quest'estate, successo a Palermo nel quartiere Zenne, ma anche a Castelvetrano, i detenuti hanno saputo dell'impegno dei giovani come volontari nel prodigarsi a favore dei più piccoli e dei più deboli e hanno scritto una lettera. È difficile oggi trovare giovani come voi in una realtà sociale dove si sono persi gran parte dei valori etici, morali e principalmente religiosi, dove si sta perdendo la fede, dove non si ricerca più il contatto con Dio e dove prevale la ricerca della felicità, dove non esiste, dove non può esistere, nel materialismo puro, nel consumismo più sfrenato, dove l'uomo pensa di poter avere il controllo della propria vita e della propria felicità, ma non è così. Prima o poi succede a tutti nella vita, bisogna fare conti con momenti più o meno lunghi, di grande difficoltà e dolore, dai quali è difficile uscire, hanno scritto i detenuti. Per i detenuti non bisogna mai perdere la fede, ogni uomo si trova spesso inevitabilmente vittima di errori commessi, difficoltà improvvise, malattie e tante altre situazioni, vicende gravi e brutte come le nostre, dove tutto crolla, l'esistenza subisce uno stravolgimento inatteso e sconfortante, ci si trova in un tunnel di cui difficilmente si vede la fine e ci sembra di non avere più la forza di rialzarci, si ha paura di perdere la fede perché ci si sente abbandonati da Dio, ma non è così. Grazie a tutti.